Il suo coetaneo Pare si tratti di un minore che ha soppresso un suo coetaneo convinto di uccidere il diavolo Il suo coetaneo Io devo rendermi conto delle tue responsabilità Comincio dall'inizio Corpus meum Quindi il fratello non ha nessuna responsabilità nella sua morte? Non toccare Non so l'idea che lei si sta facendo con questa storia Cosa le chiese la madre con quella telefonata? E' ancora intuito Potrebbe essere i canini di un animale Ma come si concluse poi l'autopsia? Non si concluse Suoviti! Paolino il segno Nella cultura contadina è diverso il deforme viene associato al demonio L'hai ammazzato? Sì io Un freddo Un freddo Coprimi Sto morendo Il dentista era spaventato molto perché sapeva delle tante dicerie Il sacrestano della madonna della neve forse ha paura della signora Sì 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 Sì